era la prima volta, no? E comunque il sindacato ha un ruolo istituzionale importantissimo di rappresentanza. Voi dovete pensare che 20 punti su 40, che già sono scarsi così, pensa a cosa sarebbe stato 80 punti più 20, cioè 80 tecnico e 20 economico. Ma vi rendete conto? Cioè il bando è tagliato per i vettori che devono dare un servizio scarso ai sardi. Prendetene atto. Ma capisci che ne dobbiamo prendere atto? Pensa se avessimo dato 80 punti. Facciamo intervenire. Scusa se ho rubato troppo tempo. No, no, no. Ma è veramente una situazione imbarazzante quella che stiamo vivendo. Professore, tu sei stato sentito più volte dalla Regione, hai portato la tua ricetta, ma nonostante tutto ti hanno ascoltato ma poi non hanno applicato quello che tu hai detto loro. E allora la domanda è, ma perché perdono tempo a scoprire?